Per il cenone della vigilia frutti di mare, primo a base di pesce e l'immancabile anguilla. Per il giorno di Natale la tradizione barese vuole che a tavola ci sia un piatto a base di brodo di carne, ma c'è anche chi preferisce il piatto a base di brodo di carne. I spaghetti con le anguille. Stasera. Domani il brodo. Dopo domani il 26 il brodo. Lasagna, l'agnello, l'asello. Domani il brodo. Gli antipasti di solito. No, non è vero. Di solito a Bari fanno al contrario. Fanno prima la carne l'ultimo giorno di festa. E per domani? E per domani? Qui c'è una doppia alternativa. Per i baresi c'è quello che fa il brodo, il famoso brodo di tacchino di carne. O la lasagna alternata al ragù. Quindi ovviamente si prosegue sempre sulla base di carne, con antipasti, i dissalasti. E per finire c'è chi la tradizione non la rispetta. Ma tu vuoi sentire la verità? E sentiamola. E sentiamola. Io il pesce non me lo mangio, lo mangio schifo. E quindi? Il bene dei bambini mangio poi il pesce. E quindi? Maggio, faccio la minestra, il riso con la minestra. E domani? Domani? Domani! Panseroti va!